Luigi Vittorio Bertarelli è una delle nature d'uomo più complete che io abbia conosciuto. Intelligente, colto, abile negli affari, esemplare nella vita, tagliato a tutti gli sport, lo si può dire superiore in ogni cosa alla media degli uomini. La sua cultura è varia, non superficiale, la sua intelligenza prontissima, tanto che nei tre anni in cui il ciclismo gli diede occasione di farsi conoscere, egli seppe diventare letterato ed oratore. Negli affari lo dicono abilissimo, nella fabbricazione dei bronzi da chiesa il suo stabilimento fa una fortunata concorrenza all'estero. Il Bertarelli non ha esitato, per farsi maestro nell'industria sua, per conoscerne tutti i segreti, a viaggiare mezzo il mondo, spesso indossando il camiciotto dell'operaio. In quanto agli sport non parliamone. Alpinista, camminatore e ciclista d'una resistenza a tutta prova, pronto tanto a scalare il Monte e bianco quanto a fare 200 chilometri per una settimana di seguito, quasi che queste fossero le cose più naturali del mondo. Luigi Vittorio Bertarelli ha viaggiato molto, ed ha viaggiato non già cacciato in un compartimento ferroviario, ma o a piedi, o a cavallo, o in bicicletta, desideroso di conoscere bene e da vicino paesi, usanze e costumi. Ovegli sia stato, rimane ancora un mistero, giacché un giorno vi parla una gran mangiata di cavallette fatte in Siria, un altro dei palicari greci, un altro ancora di un'escursione ciclistica sul mar gelato del Baltico e un altro ancora delle abitudini dei latitanti sardi. E di questi viaggi, fatti per suo conto, senza la preoccupazione di scriverne, Bertarelli ne ha riportato immagini fresche e vive, che con l'aiuto di una prodigiosa memoria prendono vita allorché ei lo voglia. Giacché Bertarelli è anche uno scrittore. Dovrei dire che scrittore lo è diventato, giacché mi ricordo che allorché il touring club ciclistico italiano ne fece il suo capo sezione strade. La prosa del Bertarelli faceva a noi giornalisti, allora numerosi, nel primo consiglio del touring, l'effetto di qualcosa di improprio, di scialbo, di commerciale. Ma in pochi mesi ci dovevamo persuadere di una cosa, che con una rapidità meravigliosa, senza che alcuno avesse il coraggio di dirglielo, il Bertarelli erasi spogliato di tutti i suoi difetti ed aveva saputo crearsi una forma robusta, agile e colorita, tale da farci rimanere tutti come sbalorditi. E' un vero peccato, di fronte a questa meravigliosa trasformazione, che la notorietà di Bertarelli sia si ristretta fra i ciclisti, giacché egli potrebbe essere un originale ed escrittore di viaggi per tutti coloro che amano le impressioni vive, sinceramente esposte. E questa pubblicazione di cinque giornate di escursioni ciclistiche per la Calabria e la Basilicata dovrebbe appunto servire a togliere dalla vita breve ed effimera del giornale questa serie di istantanee, piene di verità e di interesse. Tanto più che queste pagine, oltre che il valore del Bertarelli come scrittore, dimostrano, ciò che non si è ancora abbastanza compreso, l'utilità che può avere il ciclismo turistico, specialmente in Italia. Così varia per comunanze e per rasse, per climi e per vegetazione. Non vi è alcuno che conosca così poco il proprio paese quanto l'italiano. Ne troverete su cento e una ventina che videro la Svizzera, o furono a Parigi, ma non ne trovate due soli che conoscano l'Umbria verde, le Puglie ricche di vigneti, la Calabria disseminata di uliveti. Cosicché il settentrionale in Calabria assume il carattere di qualche cosa di raro, di un mondo così diverso che non si può formarsi in un'idea. E l'alta Italia, nel linguaggio popolare calabrese, diventa l'altra Italia. La bicicletta potrebbe e dovrebbe contribuire a formare la conoscenza nazionale in un paese, che, benché unito, non ha che la coscienza della sua disunione. Già che da questa mancata conoscenza derivano la maggior parte degli errori che si sono accumulati nella nostra vita pubblica, da quando l'illusione unitaria ci prese e, aiutata dal successo, ci travolse. Guardate ad esempio la Calabria, di cui le pagine del Bertarelli sono una giusta rivendicazione. Se parlerete con uno dell'alta Italia della Calabria, questi vi svolterà paurosamente il capo e vi parlerà di briganti, di cappelli a cono, di tromboni. E se voi gli risponderete che tutta questa roba è finita nei musei, egli vi dirà che la scomparsa non può essere totale. Non vi saranno briganti, ma non mancheranno malviventi. Non si ripeteranno le imprese audaci di Gasparone I, ma non si tralascerà di tentare qualche colpo, allorché capita. E queste idee sono così radicate che io ricordo di essermi nel 1892 recato in Calabria con questa prevenzione. né valeva rassicurarmi la sicurezza di un amico che in Calabria da dieci anni vi abita. Ma dopo un mese di dimora, mi convinsi che tale prevenzione è la più giusta delle offese che si possa fare a una popolazione che professa l'ospitalità come una religione e che maneggerà ancora il fucile o il coltello per un'idea ancora ipertrofica dell'onore, mai a scopo di lucro. Sotto questo aspetto, il viaggio di Bertarelli dovrebbe insegnare qualche cosa a noi dell'altra Italia, e cioè che la sicurezza laggiù non potrebbe essere più grande e che un ciclista può viaggiarsene solo, sicurissimo di trovare ovunque ospitalità. L'ospitalità calabrese è qualche cosa di spagnolesco, non possiede più quel contorno di tradizioni che contornano ancora l'ospitalità sarda. La ferrovia e le diligenze, con l'estendersi di una bella e comoda rete stradale, hanno reso meno difficile il viaggiare, per cui la tradizione se n'è andata, non mantenendo vivo che il sentimento, rinunziando cioè alla decorazione. Ma per conoscere tale ospitalità non bisogna fermarsi a Catanzaro, a Reggio, a Cortulone, dove vi sono alberghi e ristoranti alla Moderna. Occorre proprio inoltrarsi fra i paesi che distano ore ed ore dalla città, arrivarvi affamati ed assetati, bisognosi di riposo. In qualunque casa voi bussate, troverete ricovero e ristoro e vi arriverà, magari, allorché si sappia che siete un forestiero, osterie che non accettano il vostro denaro. Anziché essere un barbaro, come alcuni lo suppongono, il calabrese forma una delle più gentili e delle più squisitamente cortesi popolazioni italiane. D'una breve permanenza in Calabria ho portato con me dei ricordi più dolci, tanto che non potrei scordare una sola delle persone che ho allora per sì poco tempo conosciuto. Di tutto ciò, il viaggio del Bertarelli è una riprova e alle sue pagine in cui le descrizioni della bellezza dei luoghi si succedono a quelle sulla bontà degli abitanti, dileguano le fosche sanguinose leggende dei briganti e dei tromboni. Se codesto ciclista è uomo che ama riflettere, potrà fare anche qualche altra osservazione utile. Quella ad esempio essere un pregiudizio alla credenza che quelle province non siano, per il resto della nazione, che dei parassiti per la vita nazionale. Laggiù vi sono terre fertili e ricchezze grandi. L'occhio si perde spesso fra interminabili uliveti e gli aranceti auliscono quasi ad ogni svolto di strada, mentre vigne dal vino generoso incoronano ogni poggio. Ma tutta questa ricchezza è poveramente pagata. L'olio, il vino, gli aranci e i formaggi caprini non possono sperare in un'esportazione troppo gravosa oggi in cui le ferrovie con tariffe altissime hanno distrutto altri mezzi meno costosi di trasporti per mare e in cui l'unità italiana ha tolto alle Calabria quel grande consumatore che era Napoli. La Calabria ha avuto ferrovie che servono più che tutto agli inglesi tisici i quali vogliono recarsi in Sicilia senza passare il mare e strade le quali lo imparino i ciclisti da Bertarelli sono fra le buone d'Italia. Ma linee ferroviarie e reti stradali sono come le vene di un anemico. Il sangue dell'attività non vi scorre giacché la Calabria ciò che produce deve consumarlo in casa sua e così il denaro manca in modo assoluto. Quasi tutto si paga inderrate dal medico al notaio all'avvocato. L'esattore però no. Questo vuole essere pagato in denari contanti. E il curioso si è che allora quando un possidente calabrese ha da meritare una figliuola o un figlio che deve fare il volontario non trova denaro neppure vendendo un fondo cosicché oggi di in Calabria si possono acquistare terreni al 7 all'8 e anche al 10% del loro reddito netto. Un paese ridotto in tali condizioni da una politica insipiente si può chiamare sacrificato ma non parassita. Luigi Vittorio Bertarelli ha con questo come con altri viaggi dimostrata la grande utilità per noi italiani di conoscere di studiare di studiare il nostro paese per essere retti nelle opinioni esatti nei giudizi è il conosci te stesso che si può ripetere al popolo italiano il quale sa benissimo la differenza che passa fra un bretone e un ormanno ma considera napoletano tanto un calabrese che un napoletano autentico. non abbiamo bisogno di varcare le Alpi e di attraversare i mari per trovare bellezze nuove e imprevedute costumanze curiose ambienti ignorati di vita civile il viaggio sarà forse meno comodo ma certo più istruttivo che non un'escursione in Svizzera ove il cosmopolitismo sbuca ad ogni svolto di strada l'agile bicicletta è un mezzo cui bisogna saper dare uno scopo e di saperglielo dare lo dimostra Bertarelli con queste come con altre sue pagine in cui lo scrittore completa l'osservatore e l'uno e l'altro il ciclista Augusto Guido Bianchi Villa Belvedere 18 agosto 1897 e il ciclista è un'esercizio Grazie a tutti